Anne-Marie Bonaparte, che ha scritto un nuovo libro sulla sessualità femminile e tutte quelle stronzate, stronzate freudiane. Ma è una contemporanea questa Bonaparte? Marie Bonaparte? Sì, scrittrice contemporanea innamorata di Freud. Beh, vedi, il problema è che non devi fidarti di nessuno che abbia più di 30 anni, perché è rimasto imprigionato in questo bagaglio di cultura freudiana, europea, americana, femminista, eterosessuale, molto eterosessuale. E per come la vedo io, questi super eterosessuali sono semplicemente dei sadomasochisti. Esatto, sadomasochisti. Lascia stare, preferisco essere lesbica.